Si aprono le gabbie, partiti i cavalli. Della prima corsa del pomeriggio il premio Volga sui 1200 metri. Parte bene subito uno dei tre di Vicenzo Fazio, in particolare a Genore, che si porta al comando, assecondato al suo esterno da Rangoon. In terza posizione troviamo invece Free Folk, che lascia in quarta la favorita Ture Latif, che è rimasta arroccata allo steccato. Questo è lo schieramento, quando i cavalli sono già a metà curva, senza che nulla sia cambiato, sempre a Genore in vantaggio nei confronti di Rangoon. In terza posizione all'interno troviamo Ture Latif, affiancata al suo esterno proprio da Free Folk. Siamo già in dirittura con a Genore, che cerca il lungo anticipo. Rangoon non lo perde mai di vista. Stessa cosa che fa Ture Latif, che ha cominciato a muovere alle loro spalle. Poi Free Folk, che invece va per corsie più esterne, a 450 dal palo. A Genore è ancora davanti con Ture Latif, che cerca la rimonta, ancora non è richiesta abbondantemente. Poi Rangoon, che ha perso qualcosa sul parziale, ci prova all'esterno anche Free Folk, con a Genore, che ha debellato il primo attacco da parte di Ture Latif e si appresta a realizzare una solo. Vince facile a Genore. C'è lotta solo per il secondo posto, da quale emerge Free Folk rispetto a Ture Latif, ma i due sono vicini sul traguardo. Vince dunque a Genore, che ottiene così la terza affermazione in carriera, in sei corse disputate. Lo slomo ci permette di apprezzare l'interpretazione, soprattutto la calma olimpica con la quale Salvatore Basile ha portato a compimento la missione. Come detto, il training è quello di Vincenzo Fazio e colori Maurizio Illuminati. Uno al primo posto, poi foto per il secondo, ma è probabile che Free Folk abbia pizzicato proprio Ture Latif. Magari un frame indietro ci sarebbe più utile per capire qualcosa in più e magari in maniera più dettagliata, ma insomma quello che conta è il verdetto da parte del giudice d'arrivo.